Ore 12.30 circa dal portone della questura di Ravenna in Viale Berlinguer escono i familiari del piccolo Jonathan, il bimbo investito e ucciso domenica sera da un pirata della strada. Poco prima erano stati convocati in questura dopo il fermo del presunto colpevole dell'incidente. Dalle prime indiscrezioni sembra che si tratti di un cittadino bulgaro che abita nel Ravennate. L'arresto è scattato per il reato di omicidio colposo e omissioni di soccorso dopo alcune verifiche che hanno trovato corrispondenza in parte della targa nel colore e nel tipo di auto. È prevista per le 15 di oggi. La conferenza sta a pompa indetta dal procuratore capo della Repubblica Alessandro Mancini per i dettagli sull'operazione che ha portato al fermo.